Sì, ma ti devo spiegare. Abbiamo preso le misure, però... Anabella, vedi qua, dobbiamo stare molto attenti che qua... Vedi l'angolo? Sì. Vogliamo che combaci, ok? Sì. Faccio gli ultimi due. Ecco, vedi? Brava. Fai qua, che è pari qua. Brava. Bravissimo. Prendiamo l'ultimo. Aspetta. Aspetta, devi toccare. Quindi fa un po' così. Ho fatto un po' così. Ok, non troppo però. Poi dopo facciamo una cosa che... Ci metti una decorazione. Oh, si mette non solo una decorazione. Questa torta non è neanche vicina a essere finita. Andiamo a decorare, Anabella? Sì. Andiamo. Anabella, finalmente siamo arrivati a decorare il nostro torta natalizia. Pensavo di cominciare a mettere un buon doncino rosso intorno alla base. Allora... Lo strizzo fuori io. Bravissima. Allora, io comincio a mettere un po' di nostra colla qui. Poi spostiamo il nostro torta un po' avanti. E strizziamola. Che ne prendi? Eccolo. Eccolo. Che esce. Aspetta. Facciamo il più lungo possibile. Ok. Poi, con un semplice gesto qui con le nostre mani. uno in una durazione, uno nell'altro. Abbiamo questo corroncino. È bellissimo. Allora, adesso si mette qua. Qua. E io, questo mi fa finire proprio l'angolo. Allora, Anabella, mi puoi fare, per favore, un altro salto? Un salciciotto lì dentro. Va dentro tutto. Sai come si chiama questa cosa? Come? Sugar gun. Che sarebbe in italiano? Pistola di zucchero. Di zucchero, sì. Ecco, va bene. Vi fa velocemente. Posso fare la parte qui? Ok, aspetta. Facciamo... Ecco. Attenzione che questo è un po' più morbido di questo qua. Allora, io faccio da questa parte e te verso su. Io vado... Sì. Va bene. Vai. Ancora perché vogliamo che tutto sembra uguale. Vedi questo in mezzo? Sì. Ok, Anabella, adesso lo prendo io che questo è un po' fragile questo qua. Tienilo specialmente lì. Ecco. Ecco. Adesso accostiamolo accanto alla nostra torta. Con molta attenzione. Sì. Io taglio intanto l'eccesso. brava. Facciamo lì. Ecco. Adesso va bene. Ok. Si fa che combacino lì e lì. Ok, Anabella. Sai che mi può aiutare a mettere un goccio di nostra colla su ogni angolino lì? Sì. Ogni punto qua, va bene? Sì. Però, attenzione che vogliamo che è bagnata, però... Non che... Non si gocciola. Non vogliamo che si va a gocciolare su nostra torta perché sennò sarà bruttissimo. Ok. Allora. Ok, adesso vediamo. Mami, aspetta. Sì. Metto questa qui. Ok. Meno male, c'ho tantissimi. Allora, facciamo una cosa. Io giro la torta, io la metto in le palline oro. Sì, e io comincio a farlo. Anche comincio a bagnare lì, ok? Hai visto come è già cambiato tanto la nostra torta soltanto mettendo le palline oro? Sì. Aspetta a vedere che cosa ho in mente per le nostre decorazioni sopra. Ho fatto. Ok, aspetta. Ok, Nabella, credo che questo è l'ultimo. Adesso spostiamo questi. Prendiamo questo bellissimo verde che mi sembra molto natalizio. Dobbiamo fare abbastanza di questi. Guarda com'è bella. Mi può fare abbastanza per coprire tutto questo spazio? Mhm. Grazie. Io intanto, nel frattempo, la farò mettere un altro strisce rosso qui sopra. Mhm. Così sembrerà tipo un pacco di regalo che andrà sotto l'abolo invece sopra la tavola. Anabella, guarda che faccio per farla sembrare un nastro. Vedi? Questo lo appoggio qua. Cominciando da qui. Passo questo sopra. Sembra? No. Sempre le cuciture? Sì. Così abbiamo un nastrino. Bravissima, Nabella, grazie. Nabella, mi puoi aiutare? Brava. Qua su, come l'ho fatto l'altra. Grazie Nabella. Bellissima, adesso lo voglio piano piano piegare questo sopra. Allora le foglie si mettono tutte lì sopra come se fosse un vallo di Natale. Vero. Sì, sarà bellissima. Sì. Ok, Nabella. Il nostro ganache è un po' asciutto. Fai così. Facciamo insieme questo lavoro perché è lungo. Prendi uno di questi. E metti. Sì. Io comincerò forse qui in mezzo, ok? E andiamo sui lati. Mi passi un altro pennello colori uguali? Sì. Grazie. Ok. Nabella, quando li metti sulla torta spingi un po' in mezzo. Io penso una delle cose bellissime di Natale è proprio fare questo tipo di cose insieme. Però due dobbiamo salvare per una cosa che voglio fare dopo, ok? Ti vuoi una foglietta? Grazie. Prego. Questo è il tuo premio per il tuo lavoro. Questa cosa funziona davvero. Non riesco per togliermi la lingua, guarda. Non dici che non ti do la paghetta. Ecco. Nabella, ti do uno di questi. E adesso lo sai come queste foglie hanno tipo le bacche rosso? Allora invece le bacche, che ci vuole tanto tempo a rotolare, noi facciamo questi bellissimi piccoli fiori. Comunque li puoi mettere sulle foglie, in mezzo, ovunque. Qui non c'è una precisione dove vanno messo, ok? Poi anche se una foglia sia rotta mentre le stavi mettendo sulla torta non importa, perché con questo lavoro qui si può andare a coprire. È meglio fare questo lavoro qui o fare compiti? Questo lavoro qui. Ah. Adesso scegliamo un lato della nostra torta che vogliamo che sia davanti. Io penso che questo lato è migliore. Quella che mi piace di più. Io intanto stampo l'alberello. Come sapevi che prendevo questo? L'hai vista? Non posso nascondere niente da te. Allora, vai. Grazie. Bravo. Se vuoi, Mami, forse ci possiamo mettere dei pallini come le palline decorate di Natale, no? Come le decorazioni. Ok. Sai che non avevo pensato di fare quello? Però, Lady, mi piace. Allora, attacchiamo il nostro albero. Il lavoro in cima che cosa ha? Una stella. Allora, noi mettiamo... Un fiorellino. Questa è la nostra stella. Ce le metto io le palline. Giro le versoline. E poi ho l'ultimo sopraito per te, per questa torta. Bravissima. Giusto un pochino. Brava. Vieni qua. Aspetta, prima lo metto di qua. Spingi dentro. Sai che l'ho messo uno io. Non potevo resistere, scusa. Ecco. Allora, ho fatto una piccola sorpresa. Stamattina, mentre te li ancora a letto, io ho preparato un paio di cupcake per finire la nostra torta. Ricordi che ho chiesto di salvare due dal nostro avivoglio. Allora, prendili, per favore. Ci metti uno qua. Brava, grazie. L'ultimo qua. Grazie. Mi puoi preparare un po' di... Tre di ognuno? Mi piacerebbe tre su ogni cupcake. Ok. Aspetta. Aspetta. Uno. Due. E tre. Aspetta. Adesso... Che gusto hanno i cupcake? Ho fatto di banana. Ecco, Annabella, adesso abbiamo finito il nostro bellissimo torta di per Natale. Merry Christmas. Merry Christmas too. Buon Natale. E la foto? Ah, la foto. Andiamo qua. Annabella, grazie, è bellissima. Allora, appoggiti sulla tavola così la fa la foto vicino. Grazie. Bellissimo. Grazie. Allora ti dico in anticipo... Buon Natale. 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 Grazie a tutti